E inizia a gasarmi al personaggio, un saluto a tutti come state e ben ritrovati, vi invito come sempre a commentare numerosi qui sotto, a lasciare un bel like alla nostra community e al giocatore che adesso raccontiamo, ma anche a scrivervi da questa parte perché abbiamo superato i 95.000 iscritti, grandissimi tutti e ora puntiamo i 96, 97, 8, 9 e poi i 100, mi raccomando, se non avete ancora fatto iscrivetevi, chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano, scherzo, ma non troppo, ovviamente non prendiamoci troppo sul serio, lo dico per chi poi e magari se la prende, mi raccomando iscrivetevi in un rosso e vediamo quanti sono i milanisti che sono dietro questo schermo, che non si sono ancora iscritti e lo faranno in questo momento. Allora, tante notizie, un'ufficialità non riguarda Sportiello che era già ufficiale ovviamente, Sportiello che però si è presentato oggi e mi sembra che sia entrato con i piedi buoni, con i piedi giusti, anche se è più grande, dice voglio imparare da Menian, anche se non riuscirò a fare le cose che fa lui, quindi riconosce i propri limiti, con umiltà entra nello spogliatore, Poi io, Loftus Cic si vede che è un giocatore molto importante, ecco, personalmente mi ha colpito molto la fisicità, sembra davvero un giocatore di NBA, Loftus Cic, Sportiello che ci fa stare tutti un po' più tranquilli, non è lui chi mi gasa, ecco, però ecco, è anche un giocatore italiano che ha maturato esperienza e dice chi gioca meno deve spingere il gruppo, sono qui anche per questo. E' importante avere anche questo, in generale è importante avere anche uno spirito buono nel gruppo, mi spiegava un ex calciatore di un grande Milan, che come tu stai nello spogliatoio, quanto poi stai bene con quei compagni, quanto c'è un gruppo unito davvero fa la differenza, può sembrare una frase fatta ma non lo è, ecco, secondo me lo scorso anno da questo punto di vista qualcosa un po' è mancato, magari anche nel rapporto con Pioli, che non peraltro, anche per questo vuole cambiare alcune cose nello spogliatoio, e anche per i nuovi, secondo me è importante come vengono accolti, è importante anche avere conoscenze, ad esempio penso a Tomori, che può aiutare molto Loftus Cic, il giocatore con cui è cresciuto, quindi Loftus Cic potrebbe avere un inserimento più agevolato, stesso discorso per Pulisic, che è un compagno con cui ha giocato fino all'altro ieri, cioè Loftus Cic, e avrà anche chi potrà introdurlo, quindi queste cose, queste ragnatele sembrano secondarie ma non lo sono. Quindi bene anche Sportiello, che ha una faccia da Milan, milanista di Desio, dalla nascita, un benvenuto a lui, ma non è l'operazione della quale adesso andiamo a raccontare, e ci sono tante notizie, perché c'è fermento, partiamo subito dal fermento in uscita. Poi vi do una situazione molto particolare, più di una situazione molto particolare, l'ufficialità, dei dati, insomma un video molto ricco. Innanzitutto diciamo che un nuovo mercato in uscita per il Milan è Ballotouret, che può non portarti chissà cosa, ma a noi deve interessare che se esce, per forza di cose, qualcuno poi arriva al suo posto. Per il Milan è in uscita, quindi il Milan pensa a qualcuno per sostituirlo. Bologna forte in Italia, ma c'è anche il Nizza, quindi lui potrebbe tornare in Ligan, in queste ore dovrebbe decidere quale proposta accettare tra Bologna e Nizza, e vedremo poi che Formula riuscirà a spuntare al Milan. Spero di commentare poi un incasso, ma sinceramente per questo tipo di calciatori non ne sono sicuro, quindi magari sia un presito con diritto di riscatto. Però se esce lui, qualcuno entra al suo posto. Stesso discorso per Gabbia, su di lui Frosinone e Genoa. Gabbia, come vi dicevo, vuole andare a giocare, vuole fare lo scorso anno. C'è però qualcosa che non mi torna, perché Gabbia è importante per la questione liste, vivai o Milan, c'è senza di lui soltanto il buon Pobega e il buon Calabria. A oggi anche Colombo, però Colombo da quello che so io appena arriverà l'attaccante andrà via. Quindi due, attenzione perché stando così le cose oggi, in questa situazione, quindi con anche Gabbia, che quindi non toglie il posto agli altri, noi avremo fuori, stando in questo quadro, finisse oggi il mercato, avremo fuori dalla lista europea Vasquez, chi se ne frega, Ben Nasser, perché insomma fino a gennaio comunque non ci serve, però poi eventualmente lo devi fare entrare, devi togliere qualcuno. Avremo fuori Romero, avremo fuori anche Adli. Quattro, se esce Gabbia hai un altro, nel senso che non hai più Gabbia, e a quel punto poi devi sostituirlo, ma quest'altro non rientra nella lista. E se parte qualcun altro, altri non rientrano nella lista. Scusate, se acquisti qualcun altro. Quindi, in questo momento noi avremo fuori quattro giocatori. Se compriamo più di quello che vendiamo, i giocatori potrebbero essere cinque, sei, questo si vedrà. Per questo c'è qualcosa che non mi torna, a meno che a sorpresa magari Colombo resti al Milan, a quel punto avresti il terzo attaccante come prodotto Vivaio Milan, quindi avresti tre, anche se esce Gabbia. Qualcosa sulla lista devo capire bene, sto cercando di scavare per capire che cosa hanno in mente. Detto questo, è una questione molto 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 importante. Proseguiamo in questo video. Oggi, come detto, dovrebbe, usiamo il cognizionale perché in queste telenovela tutto può accadere, dovrebbe rispondere la Zeta rispetto alla proposta del Milan per Reinders, che non ha preso parte all'amichevole di oggi della Zeta Eichmann e che quindi, insomma, viene ovviamente preservato, ha fatto un allenamento a parte, a Zeta in cui tra l'altro gioca quel Kerketz che noi abbiamo ceduto l'anno scorso e che quest'anno ha fatto una stagione incredibile, la Zeta ricaverà tanti soldini, piace molto la Lazio e ci mangiamo le mani. Però vediamo che cosa succede, lui ovviamente, secondo me lui alla fine vestirà la maglia del Milan, perché il Milan lo vuole, lui vuole il Milan, la Zeta vuole cederlo. Vediamo se questo rilancio 19 più 4 di bonus è quello buono o se servirà a rilanciarlo ulteriormente. Però, ripeto, il Milan lo vede a Milanello, Pioli lo vede a Milanello, bisogna capire quando e come, soprattutto. Il fatto che non venga impiegato è molto significativo, ecco. Però bisogna sempre stare attenti perché più passa il tempo magari arriva il club di Premier League, c'è un rilancio, bisogna stare attenti. Rialzo che al momento il Milan non vuole fare invece per Busa, che è il giocatore del Valencia, perché il Valencia ha bisogno di soldi. Quindi il Milan dice, aspettiamo, più va avanti più abbassano le pretese. Il Milan deve fare almeno, oltre a Renders, almeno un altro centrocampista. Almeno uno, perché se giochi con i 3 potrebbe servirtene anche un altro. Musa al Milan è arrivato a offrire 13 più bonus, non è una priorità, la priorità ora è Renders, e nel ruolo di eventuale mezzala ci saranno anche altri giocatori che potranno entrare nelle considerazioni del club. Quindi in questo caso l'attesa potrebbe essere davvero un'amica del Milan, anche se Musa ha estimatori anche in Premier League. Però è giusto non andare a svenarsi per un giocatore comunque molto giovane, se non è lui è qualcun altro, si può anche fare anche senza Musa. Su questo lo vedremo. Poi, adesso arriviamo all'ufficialità e a delle cose che mi intrigano parecchio, segnalo, devo dirvi anche quest'altra cosa qua, segnalo che nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti e con Mithylland, spero di averlo pronunciato correttamente, qualcuno si arrabbierà, e con l'entourage di Isaacsen per questo giocatore, le equilibrazioni sono il rialzo. In questo momento alternativa a Ciocquezza, che è il primo obiettivo, ma se si concretizzano determinate cose potrebbero essere anche entrambi insieme, perché comunque il Milan vuole rivoluzionare un po' tutta la rosa. Entrambi insieme mi sembra sinceramente oggi improbabile, però vediamo. Le vie del mercato sono infinite, Isaacsen che permetterebbe di arrivare quindi a un numero 9 extra comunitario, permetterebbe anche di destinare 15-20 milioni in più sul numero 9, o in altre reparti, visto che Ciocquezza ti costerà minimo 28 se non 30 milioni di euro, mentre per Isaac siamo su una decina di milioni di euro, quindi il risparmio sarebbe di 18-20 milioni di euro appunto. È un mercato in cui dobbiamo fare tante cose, quindi abbiamo un mese e mezzo abbondante di mercato, diciamo una cinquantina di giorni più o meno, in cui cadranno tante cose, forse anche più di quelle che ci aspettiamo. Mi è arrivato un'altra ufficialità, che mi rende frizzantino, perché Mr. Capitano America, Christian Pulisic, è un nuovo giocatore del Milan, maglia numero 11, e non so se perché oggi l'ho visto nel mondo Milan, ho visto la maglia numero 11, ho visto lui, mi inizia a dare vibrazioni più positive, delle belle sensazioni. Intanto vi dico che dalla stagione 15-16, cioè da quando lui si è trasferito dall'America all'Europa, al Borussia Dortmund, è uno dei tre, ripeto tre, solo tre al mondo, nati dopo il 98, che hanno partecipato ai principali cinque tornei del campionato europeo, a vantare almeno 500 dribbling riusciti, con, gli altri due sono Vinicius e Mbappé, che sono due giocatori forti, forti, forti. Questo ci fa capire come lui ha delle qualità incredibili. Il dribbling, per chi gioca dalla tre quarti in su, soprattutto, è una caratteristica fondamentale per saltare l'uomo, per creare il pericolo, per avvicinarsi alla porta, per dare poi successivamente magari una soluzione offensiva o a un compagno, può cercare di concludere. Lui è nella top con Vinicius e Mbappé, giocatore che deve fare ancora 25 anni. Giocatore che, tra l'altro, ha ricevuto l'imboccaluppo da Balogun, altro profilo che il Milan sta seguendo con attenzione le vicende di mercato. Giocatore del Arsenal, dopo l'esperienza allo Stade Reims in cui ha fatto 21 reti in Ligan, che ha dato l'imboccalupo sui social al connazionale Pulisic, connazionale amico. Ad esempio, Isaksen permetterebbe di provare a puntare a Balogun. Detto questo, Pulisic, ragazzi, ricordiamo che ha un'incognita che sono i problemi fisici, perché ha avuto due mesi stop ogni anno, negli ultimi anni. Quindi questo è un discorso da affrontare. È un giocatore estremamente duttile, ha fatto l'ala destra 107 volte, l'ala sinistra 80, il trequartista 61 volte. È un giocatore che ha una qualità incredibile, che tratta il piede con il destro e con il sinistro, conclude con il destro e con il sinistro quasi indifferentemente. Era anche ambidestro lo scorso anno Brian Diaz, che però, come sapete, l'abbiamo toccato con mano, purtroppo il tiro non lo aveva. Pulisic lo ha, ha il dribbling, è decisamente più giocatore rispetto a Brahim, è un giocatore di pallone, è un giocatore che può regalare davvero tanta 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 qualità. Lo scorso anno ha fatto 22 partite, in Premier ha fatto 6 reti, una rete ogni 190 minuti, molto buona, non è neanche un numero 9. Aveva fatto anche due reti in Champions League, una rete ogni 180 minuti, molto buona. La stagione migliore, lo ricordo sempre, la fa nella 19-20 quando fa 10 reti e 8 assist tra Premier e Campionato e Champions League senza giocare già comunque neanche tanto, neanche sempre. Quindi, a me piace, spero tanto che possa stare bene e se fa bene è uno che ci fa divertire ma tanto, tanto, tanto. È uno che ha vissuto qualche anno complicato al Chelsea come tanti altri, Big, è uno che non ha ancora sviluppato tutte le proprie potenzialità anche per un fattore di contesto, anche per un fattore fisico che speriamo possa superare. Ricordo Ambrosini aveva sempre problemi, forse anche più di lui, poi switcha anche mentalmente e diventa il giocatore che tutti conosciamo. Speriamo che in un nuovo contesto con nuove motivazioni lui possa davvero sfondare. Lui è uno che potenzialmente nella C.Milan può sfondare, cioè può diventare un leader non dico alla Leao, perché Leao comunque ha avuto il suo percorso di crescita e oggi ha una certezza assoluta, però può avvicinarsi molto a quelle cose lì, e se tu ne hai due dentro, ragazzi, tanta, tanta, tanta roba. Lui, ripeto, è uno che ha delle qualità molto interessanti, ad esempio vado a recuperare qualche dato in più. Mister Capitano America, ok? Capitano America, andiamo a vedere la Champions League che ha fatto Capitano America lo scorso anno, pur non giocando tanto. Allora, 5 partite, una dall'inizio, 26 minuti a partita ha fatto, quindi pochissimo, e ha fatto in totale 84% passaggi riusciti, che è una media molto alta quando tu giochi sulla tre quarti. Queste sono medie quasi da difensori che magari fanno il passaggio in orizzontale o comunque non il passaggio complicato. Lui poi ha, vediamo, vediamo ancora, eh beh, ci sono pochi dati perché comunque qui ha giocato davvero molto poco. Andiamo a vedere poi la Premier League lo scorso anno, il top dei campionati. Il buon Pulidic, 24 partite, ha fatto 8 solo dall'inizio. Vediamo un po' di numeri. 84% passaggi riusciti anche qui. Ancora, vediamo, è un bel driblomane, due l'avere 22% non tanto, ecco, da questo punto di vista non ci si può aspettare molto, però è un giocatore che ha dei dati molto interessanti rispetto anche alla media. Ripeto, qualità dribbling, qualità giocata di qualità, scusate la ripetizione, imbucata per i compagni e anche il tiro. È uno che per le sue caratteristiche deve fare anche più gol perché le ha nelle corde. Ricordate che però anche le ha o poi ci ha messo tanto ma poi è diventato un bel top. vedremo se giocherà da trequartista, se giocherà a destra, lui potenzialmente sarebbe più indicato sulla sinistra perché poi rientra e forse su piede un po' più forte che è il destro perché lui è prevalentemente un destro ma fa anche cose interessanti con il sinistro. Io sono contento, gli do un enorme benvenuto e spero tanto che possa non deluderci. Capitan America, io punto su di te, mi raccomando, fate sentire il vostro calore e lasciatevi trasportare da queste emozioni senza placarle. Se vi dà dei sussulti positivi godeteveli, cavalcateli e puntiamo insieme su di lui se vi va. È un nuovo giocatore del Milan, merita entusiasmo, personalmente ecco sono molto contento, sono molto contento sia per l'Oftus che per lui a livello tecnico e secondo me lui ci farà divertire ragazzi. Se lui entra bene nello spogliatoio, se viene coinvolto, se ha voglia non credo che a 25 anni gli possa mancare, se sta bene questo è un top player della Serie A. Lo dico senza paura di essere smentito. Siete d'accordo? Se sì lasciate un bel like anche di incoraggiamento, arriviamo a 4000 like per Capitan America Christian Pulisic, commentate numerosi e iscrivetevi da questa parte e attivate la campanella. Che ne pensate della questione liste? Che ne pensate poi di Isaacsen, di Balogun? vi piace oppure no? Ho letto pareri di Contrastanti nei giorni scorsi e Capitan America Pulisic Savicevic. Ecco, oggi lo posiziono, sto dicendo una cavolata e ne rendo conto, a metà tra Savicevic e Deulofeu. Lo metto lì in mezzo. Non so perché mi è venuta questa cosa qui. Lo metto in mezzo sperando che possa avvicinarsi a Dejan che resta irraggiungibile, però Dejan Pulisic non suona male. Scherzi a parte ragazzi, tantissimi like, sono contento di questa operazione e so che arriva anche un po' con un giudizio magari generale un po' di ma capirai perché là comunque non era la primissima scelta. però questo secondo me ci può far davvero divertire anche tanto. Un saluto, iscrivetevi!